Buongiorno ragazzi, buongiorno è il Jack56 Oggi siamo di nuovo, oggi siamo all'Arcille Siamo alla Sagra del Porcino Saremo sui gonfiabili E niente Ora si scivola Andiamo Giorniamo Sì, ora ce l'ha del cavallo Uno Due Siamo sui gonfiabili E scivola Questo video uscirà domani Alle Alle Scusate Allora Alle Alle sette e mezza credo Ok Ok ragazzi Farò vedere Hai finito? Eccolico E poi è finito? Ci si vede dopo Raga Siamo ritornati E voglio far vedere le pistole Questa sono le Spara lì Spara la persona Spara lì Spara lì Dai Mette fuoco Mette la pistola Caricatore Pupazzi Che ci vuoi giocare? Eeeh Ci vuoi giocare sì o no? Qui la mappa delle Arcille Qui c'è il campo d'accolcio Qui c'è la rotatoria Quella qui Non è la rotatoria quella L'altro campo d'accolcio Dove? Tutta la mappa Comune di Campagnacchio Dove vado a stare io Poggio di lupo Poggio al lupo Poggio di San Gelo Poggio di San Gelo Oh, qui c'è questa Melvin Chiediamo con le di Campagnacchio Comune di Campagnacchio Territorio Territorio L'agenda Eeeh Ok ragazzi Andrò a fare un giretto Raga ora andrò dalla minonna Credo a bere Ma poi che fai? Gabri Dove la minonna? Dove la minonna? Andrò 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 dalla minonna Dove la minonna? Giora Giora Ragazzi ti fa i giardini ora, no no, i giardini sono eh, è qua i giardini, là, ragazzi andiamo, mi fa una forza, ragazzo, ragazzi andremo a scivola, andiamo a scivola, scivolini, da bambini, la cia ora, stiamo a scivola, faccio la cia, brazo, questo qui si, quando scendiamo? io scendo domani l'altro ancora io scendo fra un anno io tra 5 anni ci vanno io tra 2 milioni ragazzi io tra 30 mila io tra 3 mila io 8 mila che si fa ragazzi 50 mila allora ragazzi credo che mi vedete perché siamo qui al buio e non so che fare quindi credo che questo video lo concluderò qui allora ragazzi e spero che questo video vi sia piaciuto come sempre lasciate un like, iscrivetevi al canale attivate la campanella se non volete perdere nessun video e niente ci si vede in un prossimo video ciao